partecipanti. Si riceverà una notifica dal sistema quando si inizierà la trasmissione. A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Bene, buongiorno a tutti. Scusate il ritardo. Qui Emanuela Negro da Trading Room Roma. Purtroppo la mattina è probabile e facile che la sessione inizi qualche minuto dopo rispetto alle 10.30 perché chiudiamo la sessione della Trading Room e quindi capita che con le domande magari si va un pochino oltre. Quindi vi chiedo per questo pazienza. Allora, intanto vorrei, prima di iniziare, condividere con voi sull'eurofranco, il segnale non l'ho avuto, l'avevo preparato però no? Quindi il dollaro franco, vorrei condividere con voi intanto l'operazione che io ho implementato questa mattina alle 10.00. Io, eventualmente, qualcuno di voi non è ancora in posizione con questo cross, potete inserire il valore con l'ordine pendente a 0.9921 e se l'ordine rimane in piedi, non parte nella prossima oretta, poi lo eliminate perché vuol dire che il movimento è già stato sviluppato, anche se magari prima di prendere il vostro ordine giunge già a target oppure tocca già lo stop, togliete e eliminate l'ordine pendente. Quindi un entry per me a 0.99, vabbè siamo entrati 0.9919, comunque 0.9921 potrebbe ancora essere un livello di ingresso, stop 0.9881, target 0.9961. Benissimo, a questo punto partiamo, intanto forse non vi ho nemmeno detto ancora buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Io partirei subito dalle notizie macroeconomiche della giornata, visto che con voi abbiamo la possibilità di gestire, non abbiamo altri impegni subito dopo, quindi di gestire la sessione in maniera più rilassata. Io andrei ad approfondire subito un aspetto importante e mi soffermerei proprio sull'effetto del G7 che il G7 ha avuto sui mercati valutari ieri. I sette grandi del mondo non hanno in realtà trovato un accordo per un'azione coordinata a sostegno della crescita mondiale e questo ha depresso il morale degli investitori dei mercati azionari ieri. La riunione infatti del G7 che ha visto insieme i banchieri, i grandi banchieri e i ministri delle finanze dei sette grandi paesi della terra, in realtà non ha portato ad un risultato concreto, alimentando i timori per un intensificarsi di una guerra valutaria. Dalla riunione quindi è passata la linea dei cosiddetti falchi. Le sette potenze hanno manifestato la loro preoccupazione per l'indebolimento della crescita economica globale, però malgrado questo non sono riusciti a trovare un piano coordinato, un sistema coordinato di misure per stimolare questa congiuntura. Inoltre è stato anche confermato, quindi è stato confermato essere un'opinione comune quella di ritenere che lo scenario della Brexit, quindi dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sarebbe un fattore negativo, provocando uno shock in tutta l'Europa. Inizia poi, si è ventilato anche la possibilità che abbia inizio continui con temi con toni ancora più forti, la cosiddetta guerra valutaria. Da una parte abbiamo infatti gli Stati Uniti che sono tornati ad accusare il Giappone, quindi Tokyo, per la svalutazione competitiva dello Yen e d'altra parte il Giappone invece ha parlato del cosiddetto trading speculativo, quindi dei pericoli del trading speculativo, che appunto ha determinato un eccessivo apprezzamento dello Yen. Quindi ricordiamo che il gruppo del G7 si riunirà ancora per il fine settimana e abbiamo in calendario l'incontro del 26 e del 27 di maggio, nella speranza che questo incontro possa portare ovviamente ad un'azione, a definire un'azione coordinata per migliorare le prospettive di crescita, visto che ci troviamo in un outlook economico sicuramente pessimista, tra l'altro il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita del PIL mondiale per la terza volta in soli sei mesi. Sicuramente l'incontro che si terrà anche oggi ancora del G7 potrà portare dei risultati interessanti almeno sul fronte greco. La Grecia ieri infatti ha approvato il nuovo pacchetto dell'austerity e questo nella speranza di ricevere una nuova tranche di aiuti e quindi di vedere un pochettino ridotto il proprio debito dichiarato dagli stessi greci insostenibili. Quindi già oggi dovrebbero iniziare ad arrivare i primi finanziamenti esterni. Naturalmente questa è una sconfitta politica per Tsipras, il primo ministro greco, che aveva promesso ai suoi elettori di non fare più delle concessioni a favore dei creditori, però questa era una manovra necessaria, doveva adottare queste nuove misure di rigore affinché il Fondo Monetario Internazionale possa continuare nelle sue pressioni e convincere i paesi dell'Eurozona, i paesi virtuosi tra cui ovviamente la Germania, ad accettare questa ristrutturazione del debito che dovrebbe allungare i pagamenti addirittura di 60 anni. Naturalmente in Grecia continuano i malcontenti da parte della popolazione, infatti sono iniziati una serie di scioperi proprio perché il popolo non intende adottare ulteriormente delle misure di austerità. Ieri poi sono stati pubblicati i dati sul fronte dei consumi dell'Eurozona e l'indice che misura la fiducia dei consumatori ha registrato un miglioramento, si è attestato infatti a meno 7 punti rispetto ai meno 9,3 del mese precedente, battendo anche le attese che invece prevedevano un risultato pari a meno 9. Vedo delle domande, buongiorno, sono solo dei saluti, buongiorno, Vincenzo mi chiede la registrazione della live trading delle 21 di ieri sera. Ah sì sì, l'abbiamo fatta, va bene sì, te la mando per email. Grazie Mario, grazie Vincenzo, grazie Metodi per i vostri complimenti e per i vostri saluti. Bene, passerei adesso avanti e guarderei, scusate, ecco il calendario macroeconomico della giornata. A parte i primi dati che sono stati già pubblicati e alle 10.30 avevamo anche l'indebitamento netto della Gran Bretagna, alle 11 abbiamo la pubblicazione dell'indice di fiducia economica ZEV per l'Eurozona, alle 12 monitoriamo l'indice delle vendite al dettaglio per la Gran Bretagna, alle 16 importante per gli Stati Uniti il dato relativo alle vendite sulle nuove abitazioni e poi alle 22.35 in modo particolare le scorte di petrolio. Ripiloghiamo le operazioni che abbiamo in piedi a breakout. L'operazione sul dollaro yen io l'ho chiusa questa mattina, in realtà a 109.50, vabbè comunque 109.43 con un piccolo profit. Chi è in posizione sul dollaro yen in breakout io consiglio di chiudere l'operazione portando a casa il profitto, adesso andremo a vedere perché. Sull'euro dollaro abbiamo spostato uno stop, ricordiamo che poi sul dollaro yen avevamo anche spostato lo stop in pari ieri sera a 109.07. Sull'euro dollaro ieri sera ho ritenuto valido anticipare lo stop, spostarlo quindi ulteriormente a 1.1322 per cui il rischio si è ridotto dall'1% allo 0,68%. Attualmente il dato del profitto era questa mattina del profitto latente ovviamente non ancora contabilizzato, era dello 0,3% ma adesso la situazione è migliorata perché il movimento è esteso, comunque tenete conto che sono dei dati attualmente quelli del profitto teorici calcolati questa mattina alle 7 appena ho aperto la mia piattaforma. Sul dollaro neozelandese anche lì avevamo un'operazione in sella 0,6714 e anche su questo cross ho spostato lo stop a 0,6845 quindi riducendo il rischio anche qui dall'1% allo 0,84%. Il profitto questa mattina era ancora 0, adesso andremo a vedere sul cross che cosa è successo e come siamo. La giornata dei segnali di ieri non è stata particolarmente fortunata, sulla sterlina infatti abbiamo preso uno stop loss di 40 pips, mentre il cross Nuova Zelanda-Franco-Svizzero l'ordine non è partito perché alle 2 quando alla chiusura delle 4 ore dalla data, insomma dal momento in cui ho dato il segnale ancora il segnale non era partito e quindi abbiamo chiuso l'operazione, l'operazione non è partita. Guardiamo adesso l'operazione, ripetiamo l'operazione di questa mattina, io consiglio un'operazione sul franco svizzero, dollaro franco quindi è il cross, un buy limit a 0,9921 con uno stop a 0,9881 e un target a 0,9961. Monitoriamo questi cross, ovviamente il dollaro franco per il buy che vi ho già individuato, l'euro dollaro per dei sell che però credo che siano già partiti, avevo guardato poco fa i mercati e l'euro franco per un buy, guardatelo però alle 14 perché ancora non aveva dato un segnale interessante. Mentre io consiglio di non operare quest'oggi su AUDCHF, AUDNZD, EuroGBP e GBPCHF. Benissimo, vi rinnovo sempre l'invito a scrivermi per qualsiasi vostra necessità, problema, domanda, commento relativo al mercato valutario, l'indirizzo da utilizzare è manuela.negro-tradingroomroma.it dato è anche uno sguardo al nostro sito www.tradingroomroma.it Bene, adesso possiamo quindi passare ai grafici anche perché abbiamo tanta 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 carne sul fuoco. Partiamo proprio dal dollaro franco, l'operazione per commentare quantomeno insieme l'operazione che ho implementato questa mattina. Vedo che ci sono ancora delle domande. Bene, Alessandro, hai preso l'ordine su dollaro franco, ho appena preso l'operazione. Benissimo, sono contenta che anche con questa sessione delle 10.30 insomma riusciamo a far partire quantomeno gli ordini, i segnali che noi diamo alle 10. Comunque, benissimo, a parte tutto, il dollaro franco mi ha confermato un minimo qui su questo livello a 0.9886. Quindi la mia operazione prevede uno stop 5 pip sotto al minimo a 0.9881 e un target a 0.9961 con un'entrata a 0.9921. Vediamo che livello credo che l'abbia già raggiunto, siamo a 0.9918 quindi entrate a questo punto a questi livelli senza ordini pendenti se ancora non l'avete fatto. Nella giornata di ieri il cross aveva, si era mosso all'interno di un canale di congestione che vediamo, traccio le linee altrimenti non leggo i livelli, che vediamo insomma essere tracciato qui tra 0.9920, 0.9925 e 0.9885, 0.9890. Questo era un canale, un rettangolo all'interno del quale si era fermato, per cui io prevedevo la possibilità di un'eventuale operazione di ingresso su conferma di minimo nel rispetto del canale ascendente a rottura di 0.9920, a rottura comunque a conferma di superamento di questo valore. Il cross quindi l'ha confermato, mi ha confermato un minimo, ha rispettato la mia visione rialzista, quindi io implemento un'operazione ancora long. Se il cross dovesse tornare sotto 0.9887 si potrebbero anche seguire delle operazioni, attenzione però si tratterebbe di operazioni sicuramente contro trend, quindi con dei target poco facilmente definibili, specialmente per i trader che sono alle prime armi meno esperti. Io in effetti non intervengo in operazioni contro trend, a meno che non si inizia a parlare di operazioni per me a ribasso, magari già sotto 0.9750 o comunque anche prima, ma se abbiamo un movimento un po' più strutturato, quindi con una sequenza di massimi e di minimi decrescenti. Quindi una semplice rottura di 0.9887 sarebbe un movimento molto veloce, sicuramente ci sono tantissimi trader che lo fanno, ci sono tantissime tecniche che prevedono questo tipo di ingresso con target più contenuti, però ovviamente bisogna essere molto esperti per poterlo fare. Guardiamo il dollaro yen, il dollaro yen, ecco così commento la mia decisione di, per me potete chiudere a 109.50 qui l'operazione, le operazioni di buy che abbiamo aperto a 109.07, perché la mia scelta deriva dal fatto che la visione rialzista del cross è stata messa in discussione ieri con queste chiusure, quella delle 16, quella delle 20. Il cross infatti ha rotto tutti i canali ascendenti che stavamo tracciando, si è posizionato al di sotto della media a 50 periodi, quindi le medie poi a 9 a 20 periodi hanno anche incrociato a ribasso, quindi tutti questi elementi mi fanno mettere un pochino in discussione la possibilità di seguire un breakout. Ricordiamo che noi avevamo un livello di breakout a 109.90, siamo riusciti a prenderlo in anticipo a 109.07, perché siamo entrati con una posizione intraday che abbiamo poi mantenuto per più giorni e quindi il livello in realtà di attenzione doveva essere 109.90, il cross è ritornato al di sotto di questo livello, quindi il breakout che noi volevamo seguire in realtà non si è realizzato, quindi io chiuderei in profitto a questo punto e aspetterei delle nuove indicazioni da parte del cross, se il cross dovesse ritornare sopra i 109.90 inizierei a riseguire un movimento long, ma non con semplicemente a breakout, ma un movimento long un po' più strutturato, quindi aspetterei una conferma di un minimo ancora crescente, magari posizionato al di sopra di 109.90, quindi la situazione attualmente non mi rende confidente nel ipotizzare che questo movimento possa essere probabile, specialmente se poi ci poniamo nell'ottica che l'operazione di breakout ci deve portare un risultato, un profitto nel rispetto di un rapporto rischio rendimento di 1 a 3, quindi se questo rapporto non viene rispettato, io ritengo che non ci siano i presupposti per poterlo fare, io preferisco non entrare a breakout, ma entrare nelle operazioni intraday, chiudere quindi le operazioni intraday. Vogliamo guardare anche sul grafico giornaliero cosa qui è stato realizzato, noi vediamo che con la candela della chiusura di ieri, quindi queste ovviamente sono le linee in azzurro tracciate sui grafici a 4 ore che al momento non tenete in considerazione, però quello che dobbiamo valutare bene è la candela di ieri, la candela di ieri è stata una candela che si è rimangiata il movimento degli ultimi 3 giorni, ha riconfermato un'ulteriore chiusura al di sotto della media 50 periodi, quindi per me questi sono dei segnali importanti che non mi fanno ritenere valido il continuare a puntare su quell'operazione a breakout, quindi dato che il cross ci sta dando la possibilità di chiudere con 50 pips di guadagno, quindi chiudiamo e aspettiamo delle nuove indicazioni del cross. Naturalmente ci tengo a precisare che attualmente la fase in cui si trova il cross è una fase di salita, ciò vuol dire che nelle prossime ore potrebbe anche toccare dei livelli più alti di 109,50, giusto per dire ma perché Emanuela mi ha fatto chiudere l'operazione a 109,50 quando il cross poteva arrivare a 109,60, 109,70, ovviamente. Ovviamente ci sono delle scelte, delle decisioni, questa è una decisione che io ho preso con l'apertura, con la chiusura delle 10. Il cross potrebbe continuare ma se io dovessi aspettare una conferma di fine del movimento rialzista, questo dovrebbe essere un aspetto tecnico valido perché non devo andare a pensare emotivamente, non dovrebbe incidere la mia emotività nella scelta delle operazioni, ma dovrei avere delle conferme grafiche. Le conferme grafiche e quindi di massimo, qualora per esempio il cross potrebbe anche arrivare su 109,80 e confermarmi un massimo qua sopra, quindi un massimo decrescente che mi riconferma la mia tendenza ribassista. A questo punto la conferma io l'avrei sicuramente una volta che il cross si rimangia questo movimento e quindi nel momento in cui se lo rimangia arrivo ai livelli in cui mi trovo attualmente. Il fatto sta che quell'operazione di breakout per me non sta andando, non è andata come doveva andare, altrimenti ci sarebbe stata un'esplosione di volatilità subito come ci è capitato nelle altre operazioni di breakout, quindi per me questo è un momento per poterlo chiudere. Poi ciascuno di voi ovviamente avendo lo stop messo a zero, l'abbiamo spostato ieri sera, può decidere di rimanere in piedi e di cercare magari di prendere qualcosina in più o qualcosina in meno, sono delle valutazioni ovviamente personali che di tutto rispetto è ugualmente valide. Per quanto riguarda invece un'operazione a ribasso, quindi io aspetterei, eventualmente prima di implementare delle operazioni short, aspetterei che il cross mi confermasse appunto il prossimo massimo, quindi verificherei che questo massimo magari è individuato ad un livello inferiore del precedente, traccerei il nuovo canale discendente sul nuovo massimo, ovviamente adesso è sospeso qui perché il massimo ancora non è stato definito, quindi traccerei il nuovo canale e inizierei a seguire il movimento ribassista a partire dalla rottura di 108 e 70, da quel momento in poi allora avrei una maggiore confidenza, una maggiore probabilità che il cross stia riprendendo il movimento ribassista e quindi inizierei a seguire sempre su scala intraday delle operazioni short puntando sul ritorno ovviamente per scale, per gradini sul ritorno su 105 e 70, 105 e 80, quindi il movimento dal quale era l'ultimo, praticamente l'ultimo minimo dal quale era partita questa fase di salita. Se vogliamo poi giustificare anche questa scelta attraverso un livello di Fibonacci, vediamo che il livello di 108 e 70 costituisce qui il 38% di Fibonacci, se vogliamo il 50% di Fibonacci, livello ovviamente appartenente alla cosiddetta golden rule di Fibonacci, è in realtà posizionato nel bel mezzo del mio canale, quindi non ho dei supporti individuati qua dentro, per cui o dovrei agire su questo livello sul 38% oppure su 107 e 60% che sarebbe il 61%, però a questo punto io preferirei già intervenire su 108 e 70% e intanto iniziare a prendermi eventualmente il movimento sino al 61 e 8%, sempre a scala ovviamente, quindi nelle operazioni intraday. Vediamo se ci sono delle domande, poi passiamo al cross, oddio ce ne sono tante, allora vediamo un attimo, cerco di ricominciare. Allora anche metodi, mi diceva che credo che abbia preso, siamo già a 0,9917, sì sì, tieni conto metodi che per me nella prossima ora, stando alla strategia, stiamo parlando per tutte le altre persone, stiamo parlando del cross dollaro franco. La strategia prevede un livello di ingresso ovviamente che di solito viene toccato, è più basso rispetto ai livelli in cui si trova il cross perché il cross ritraccia nelle fasi meno 100 pips, cosa stai dicendo metodi? Io sto parlando di un dollaro franco metodi, io non so di che cosa tu stia parlando, meno 100 pips, meno 100 pips di cosa metodi? L'ingresso del dollaro franco è 0,9921, siamo a 0,9919, cioè il 100 pips da dove li sei vedi, sono entrato, ah sei entrato a 0,9121? Ah vabbè, e questo 0,9121 da dove l'hai ricavato? Pensavo ti stessi riferendo al mio ingresso, 0,9121 sei entrato long, sei entrato? Allora scusami metodi, chiariscimi un attimino la tua posizione. Ok, tu sei entrato a 0,9121? Ah no, a 0,9917? Ah beh, dicevo perché io questo 0,9121 non l'avevo individuato, ah bene bene, sono contenta, no? Perché mi stavo preoccupando metodi, ok, anche perché ti vedevo abbastanza ansioso. Tra l'altro lo stop è a 40 pips, quindi non potresti perdere 100 pips su questa posizione. E in ogni caso, ecco, quello che volevo dire è che è normale che il cross scenda un po' nelle ore successive al segnale. Bene, quindi passiamo sull'altro cross, l'euro-dollaro. Ecco, l'euro-dollaro sta andando ovviamente ancora bene nella posizione di breakout che abbiamo preso a 1,1214, quindi l'operazione è in profitto. Abbiamo spostato uno stop a 0,1, scusate, altrimenti do i numeri, a 1,1321, livello dal quale secondo me il cross potrebbe iniziare una fase di accelerazione che potrebbe riportarlo su 1,1377 quantomeno, pur mantenendo una visione ancora ribassista. Per cui non avrebbe senso per me lasciare uno stop a 1,1377. un punto di snodo sarebbe già qui, 1,1321, vediamo che è un livello che corrisponde al supporto attuale resistenza statica e anche dinamica, rappresentata dalla media mobile a 200 periodi. Importante però per chi opera ovviamente in intraday, che qui abbiamo avuto un massimo che è stato segnato qui a 1,1243 se non erro, quindi questo è un massimo di riferimento che già per l'operazione intraday è di grande valore e che quindi dovrebbe essere il punto per uno stop. Ecco perché ritengo perché chi non sia entrato ancora in posizione non dovrebbe entrare a questo punto ma dovrebbe aspettare il successivo massimo per poter entrare in posizione. Noi siamo già entrati, siamo in breakout e quindi continuiamo a seguirla spostando uno stop sul livello che abbiamo detto. Per chi ha in piedi delle operazioni differenti, per me la visione su questo cross, quindi in maniera tale da valutare poi da prendere eventuali decisioni a riguardo. Per quanto riguarda la mia idea, la visione su questo cross attualmente rimane ribassista, lo conferma anche se vogliamo il grafico giornaliero, il grafico, il cross non è riuscito a superare al rialzo la resistenza di 1,1220, è rimasto sempre al di sotto, attualmente sta anche violando la media mobile a 200 periodi, incrocio di medie a ribasso, quindi per me su questo cross la visione attualmente continua a rimanere sia su scala multiday che su scala intraday rimane ribassista. Per stravolgere questa visione, questa lettura del grafico, secondo me il cross dovrebbe ritornare al di sopra di 1,1430, quindi dovrebbe ritornare all'interno, adesso pur parlerò ovviamente a livello di analisi, all'interno del canale ascendente che abbiamo tracciato e superare anche questo livello, questa fase di congestione, questa è la linea all'interno della quale già diciamo in corrispondenza temporale il cross potrebbe riprendere il movimento al rialzo. Ovviamente da 1,12 e 14 a 1,1430 ce n'è di spazio, non è che noi non facciamo nulla, non entriamo al rialzo, entriamo ma su operazioni intraday, non con operazioni multiday, ovviamente le operazioni intraday potrebbero già iniziare ad implementarsi una volta che mi fa il prossimo massimo crescente, superiore, quindi mi viene a violare questo 1,12 e 40, mi fa il prossimo massimo crescente, sul prossimo minimo si potrebbe già entrare, è probabile che già da 1,1320 si potrebbe iniziare a seguire dei movimenti long, sempre in ordine intraday, ma ovviamente questi sono livelli puramente teorici, sui quali sì mi piace ragionare, riflettere, ma io aspetto comunque delle conferme e quindi valutiamo poi ecco perché l'importanza di queste sessioni in tempo reale, valutiamo il cross come si comporta nel tempo, nella chiusura delle varie candele e quindi di conseguenza prenderemo delle decisioni in merito. Guardiamo se ancora ci sono delle domande, ma operazione di sell, Sonia, non ho capito la domanda, tu mi chiedi ma operazione di sell, punto interrogativo, a quale cross ti riferisci sull'euro dollaro? Operazione di sell vuoi sapere se su scala intraday puoi fare adesso su un'operazione di sell e questa è la domanda, allora Sonia, ah tu sei già entrata, allora se mi dici su quale posizione, ma sei in perdita, ecco, su quale posizione, su quale livello sei entrata? Giusto per vedere un attimo di condividere la tua operazione, se non ti scoccia, se non ti scoccia farlo, sì, sì, su quale livello sei entrata? 1,11 e 75 e sei entrata in, ah 1,11 e 75 in sell, allora, allora Sonia, 1,11 e 75 in sell è un livello troppo basso, non si entra su una situazione già di minimo in corso, perché appunto il minimo potrebbe essere, se noi vediamo per esempio questa candela, la candela che si sta formando ora, potrebbe essere già la candela che ha già staccato il minimo, perché il minimo che già è stato toccato è già inferiore rispetto al precedente, quindi nulla toglie su scala intraday che il cross possa ritornare su, quindi possa già ritornare su e farmi il successivo massimo, e quindi ti prende in qualche modo lo stop se tu l'hai messo, io per come vedo questa operazione, poi naturalmente tieni conto che questa è un'opinione mia personale, poi non voglio che nessuno mi venga a dire sì, ma poi sarebbe andata, io adesso non so tu che stop hai, io quell'operazione che hai fatto tu a 1,11 e 70 di sell la vedo proprio fuori, fuori dalla mia modalità operativa, quindi io per mia natura la chiuderei perché la riterrei un'operazione già sbagliata, la chiuderei con la perdita attuale, devi andare in short sì sull'euro dollaro, ma non a questi livelli, per chi non è in posizione, su posizioni interessanti, cioè la posizione interessante che dovrebbe essere mantenuta, dovrebbe essere quella, siccome il massimo è 1,12 e 43, entro i 40 pips dal massimo, quindi al limite a 1,12, allora quella potrebbe essere un'operazione da mantenere, anche se il profitto l'ha già fatto da mantenere magari con uno stop in pari o con uno stop in positivo, ma se siete entrati ad un livello inferiore di 1,12 e 40 o di 1,12 ad un livello inferiore, io ritengo che la posizione adesso sia molto rischiosa e quindi vi consiglio o in profitto o in perdita di chiudere il tutto. Si rientra in sell non appena abbiamo una nuova conferma di massimo e quindi un rimbalzo, o quindi con un ritorno su 1,12 e 14, 1,12 e 20, oppure magari qui intorno alla media, tra l'altro vediamo che la media a 9 periodi corrisponde pure a 1,12 e 15, quindi proprio quello sarebbe il livello di ingresso, quindi non oltre la media a 9 periodi, quello è il livello dal quale potreste rientrare, ma non ora, perché? E nemmeno nelle prossime ore, perché nelle prossime ore il cross potrebbe, avendo già segnato un minimo decrescente, potrebbe, dico potrebbe, il condizionale è d'obbligo, potrebbe riprendere una fase di correzione che lo porta a segnare il nuovo massimo e quindi vi potrebbe prendere l'ordine a 1,12 e 14 e poi risalire su. È importante non soltanto un livello nel momento in cui si fanno delle operazioni, ma anche e soprattutto il momento, il timing d'ingresso, quindi questo per chi non è in posizione non è il timing giusto di ingresso. Per chi è entrato ad un livello inferiore di 1,12, l'operazione non è tecnicamente corretta, quindi l'operazione andrebbe chiusa, o in profitto o in perdita, magari se siete in profitto mantenete o la mantenete con uno stop a zero cercando di poter prendere qualcosina in più, ma comunque l'operazione va salvaguardata. Può tenere l'operazione in piedi solo chi è entrato sotto, cioè intorno al livello di 1,12, secondo me, naturalmente, secondo il mio parere, ma sempre che se deve rimanere aperto su scala intraday, deve salvaguardarle con uno stop in pari. Se dovete entrare su scala multiday, lo stop non deve essere inferiore a 1,13 e 20, quindi misurate, valutate se la vostra misura della negoziazione è compatibile con questo tipo di stop. vediamo se ci sono delle altre, ok, ok, allora va bene Sonia, perfetto, perfetto. Una domanda di Simone Noviello, una domanda per il cross dollaro yen, si potrebbe mettere un sell stop a 109,40? Allora, 109,41 sell stop, lo vediamo su dollaro yen. Allora, 109,40, un sell stop io non lo metto, perché? Perché? I sell stop io li utilizzo per operazioni di breakout, per cui operazioni multiday, in sell in questo caso, che potrebbero essere, diciamo, per i quali sarebbe importante aggiungere, individuare un livello a partire dal quale eseguire il movimento. Attualmente non ci troviamo in questa situazione, 109,40 non è un livello interessante di breakout per operazioni multiday. Se devo entrare in operazioni intraday, non mi serve solo un livello, ma mi serve anche il momento. Potremmo a questo punto entrare, adesso non sto ricordando il nome, scusami, Simone, ecco Simone, potremmo entrare ad un livello migliore, come è possibile? Quindi noi per forza, per poter contenere il nostro rischio, dobbiamo aspettare che il cross finisca di fare, finisca di salire, finisca di fare questo suo movimento attualmente correttivo e noi quando abbiamo una conferma che questo movimento è finito, quando mi ha confermato il massimo. Quindi non ha senso adesso individuare un livello che potrebbe essere toccato dal cross e poi continua a salire perché siamo in una fase di salita. Se invece il cross continua magari a scendere, allora potremmo a questo punto, se dovesse scendere subito potremmo già metterlo a 109,58, perché è a 109,40? Perché non lo metto? Perché il cross può ancora salire e quindi se mi conferma un massimo ad un livello superiore, io entro al livello superiore, purché il massimo sia decrescente rispetto al precedente, entro ad un livello superiore e magari 109,40 potrebbe essere già un target che mi dà una buona probabilità di successo dell'operazione. Però io non lo inserisco perché il cross potrebbe invece a questo punto continuare a salire, il cross fa quello che vuole, non siamo noi a stabilire, quindi il cross potrebbe tranquillamente salire, mi ritorna su, mi fa un minimo crescente e riprende col movimento long. A questo punto io perché mi devo inserire un ordine di sell stop su questo livello, entro qua e entro long, non vado più short, quindi bisogna secondo me osservare il cross e avere la pazienza di aspettare che ci fornisce le indicazioni necessarie e soprattutto aspettare la chiusura delle candele. La chiusura delle candele a 4 ore almeno, a 4 ore per quanto riguarda, ma credo che questo l'avviate già fatto nei vostri, nei corsi di teletrade, a 4 ore per quanto riguarda l'analisi, poi orario per eventualmente degli ingressi operativi. Dunque, Sonia Coccia mi chiede, posso chiedere la scelta del livello? Su cosa ti stai riferendo? Sul cross sempre euro-dollaro? Sempre euro-dollaro. La scelta del livello per poter entrare ancora short, quindi mi chiedi, 1,12. Allora guarda, tendenzialmente 1,12, Sonia, è il livello per chi dovrebbe essere in posizione ora su un'operazione intraday, su un'operazione intraday con uno stop come hai messo tu appunto anche di 30 pips che potrebbe essere uno stop adeguato. A 1,12 è il livello per chi dovrebbe essere in posizione. Il livello nuovo purtroppo non te lo posso dare perché non sono una maga, nel senso che il mio modo di operare non è quello di prevedere quali sono i livelli che il cross ci potrà toccare, ma è quello di valutare qual è il livello che il cross ha toccato e di conseguenza operare. Noi operiamo su una regola importante, guarda, valuta e negozia, quindi la prima regola che bisogna fare è osservare il cross. Quindi può darsi che magari appena termina di fare il minimo qui con il movimento che sta facendo ora il cross, l'euro dollaro, ritracci e magari mi salga sopra 1,12 e 40 o 1,12 e 30, allora quello potrebbe essere il livello, come potrebbe rimanere sotto e mi fa un massimo magari qui su 1,11 e 90, 1,11 e 80 e allora potremmo comunque rientrare short su questo livello. Quindi noi seguiamo nelle varie sessioni, valutiamo in tempo reale che cosa succede sul cross. Quindi per chi non è in posizione ora almeno a quota 1,12 non è un livello interessante per poter seguire l'operazione. Chi deve ancora entrare bisogna aspettare che compia il massimo necessario per poter riprendere il cross, è come se io volessi salire su un treno, è necessario che questo treno si fermi alla stazione, altrimenti anche se arriva a destinazione comunque mi schiaccia, quindi non posso prendere un treno in corsa, questo è il principio di comportamento, la regola di comportamento. Ok, benissimo. Eh sì sì sì, ma infatti io ti ringrazio Sonia per le domande, perché mi aiutano anche a spiegare bene anche i segnali che poi diamo, perché un segnale lasciato lì per lì senza poi una modalità operativa, poi diventa anche difficile da tradare e magari potete interpretare delle mie cose, dei miei pensieri in maniera diversa. Quindi ci tengo molto, anzi grazie Sonia per questo tuo intervento. Tra l'altro vedo che sei anche una tra le pochissime donne, se non l'unica donna oggi in sala qui con noi, quindi sono contenta che tu abbia intervenuto. Bene, quindi passiamo, adesso ci siamo un pochino dilungati, ma so che il cross euro dollaro è un cross molto molto tradato, quindi passiamo alla sterlina. Oh, ecco qua, la sterlina è in una fase di indecisione, questo sicuramente gli si deve dare atto. Ieri infatti abbiamo preso lo stop loss su questo cross, siamo entrati qui, pensavamo appunto di raggiungere il target, è salito, ma non ha raggiunto il target di 1.45.60 che avevamo messo, è arrivato qui a 1.45.40 e poi è ritornato giù. È ritornato giù, quindi mia ovviamente 1.45.60 doveva essere un target minimo per riprendere un movimento al rialzo, ma perché il massimo doveva essere questo, quindi il massimo di riferimento e quindi il cross avrebbe dovuto addirittura fare di più, avevamo infatti individuato 3 target. Il fatto che abbia preso lo stop loss è stato infatti un segnale importante che ci ha permesso di individuare una nuova trend line decrescente tracciata sul nuovo massimo e ci permette di filtrare molto le operazioni anche di oggi. Il cross infatti, noi infatti abbiamo questa croce che già quando si guarda il grafico già uno vede la croce e dice vabbè lasciamo perdere oggi, in effetti questa è la situazione della sterlina, ha quindi segnato un minimo decrescente, il massimo adesso con la candela che si sta creando ora, proprio in questi momenti, quindi che chiuderà qui, vedo alle 12, la candela chiuderà alle 12 e ha già superato il massimo precedente, quindi segnali contrastanti, minimi decrescenti, massimi crescenti, aspettiamo che si definisca bene il movimento. Se il cross ritorna quindi al di sopra di questo canale, quindi al di sopra di 1,45, 43, quindi noi poi tracceremo eventualmente, per ora non lo spostate perché i minimi precedenti ci danno degli ingressi importanti dei livelli, dopo quando avrà definito eventualmente se ritorna sopra a 1,45, 45, mi riconferma un minimo qua sopra, allora inizieremo a tracciare il nuovo canale ascendente che potrebbe poi tener conto anche di questo minimo che è stato segnato qua, quindi dopo vedremo. Per ora il minimo di ieri interessante era questo, quindi è stato importante la rottura di questa trend line per farci capire che c'era qualcosa che non andava, infatti c'è stata un po' di volatilità, un po' di confusione su questo cross, è giusto che chi opera tutti i giorni sul mercato ovviamente ne diventa, in questi casi ne diventa, ovviamente deve accettare i movimenti, ne diventa vittima di questi movimenti, comunque l'importanza è che la posizione sia contenuta in uno stop e sia fatta con criterio. Noi abbiamo seguito un criterio e il cross è sceso e dopodiché adesso sta salendo, quindi aspettiamo che definisca la sua reale intenzione, tendenzialmente per come si stanno ancora impostando le candele, se nella candela delle 14, più tardi delle 12 avremo una conferma qui di minimo, il movimento continua a rimanere rialzista, quindi la visione dovrebbe essere rialzista, però per poter rientrare con posizioni intraday aspettiamo un'ulteriore conferma ed un ritorno in maniera più tranquilla, più pagata della sterlina all'interno del canale ascendente, tra l'altro alle 12 abbiamo anche dei dati sulla sterlina, quindi comunque la volatilità, la confusione del cross dipende anche da questi avvenimenti di natura macroeconomica, quindi rimaniamo temporaneamente fuori sulla sterlina e vediamo come si evolverà la situazione. Guardiamo ancora il dollaro neozelandese, il dollaro neozelandese è anche questo, un cross particolare che ci sta regalando tanti, ma tanti di quei triangoli ultimamente che diventa e sembra veramente quasi un, fa quasi ridere guardare il grafico di questo strumento. Comunque, al di là di tutto, io avevo tracciato questo rettangolo di congestione all'interno del quale si è mosso segnando dei massimi che sempre sono stati individuati su un pari livello 0,6840. Il massimo che è stato segnato ieri, credo che sia questo, ieri o l'altro ieri, 23 ieri, è un massimo decrescente, quindi inizio già a tracciare la mia prima trend line. Avevamo anche però dei minimi crescenti e quindi ecco qui che il cross si è chiuso in una contrazione di volatilità che io dovevo seguire su scala intraday per individuare dei livelli di attenzione. Benissimo, con l'ultima candela la visione rimaneva comunque ancora ribassista, perché il cross era al di sotto della trend line crescente che avevamo tracciato, era al di sotto della media a 200 periodi, se vogliamo anche sul grafico giornaliero era rimasto, avevamo già avuto qui, ingrandiamo un pochettino il grafico, ecco, avevamo già avuto, era al di sotto di tutte le media, avevamo già anche avuto un incrocio di media ribasso, quindi la visione rimane e continua a rimanere ribassista, almeno per quanto riguarda anche la posizione multiday. Quindi per chi opera su scala intraday, allora il cross ci ha già regalato un movimento a ribasso, quindi siamo in una fase di discesa ancora, quindi non è il caso attualmente di entrare come per gli altri cross su questo livello. Per chi è in posizione può decidere di, può mantenerla se è in posizione su scala intraday, può decidere di mantenerla salvaguardandola comunque o con uno stop in pari o con uno stop in positivo, con una procedura di training stop, perché poi il cross potrebbe, ormai avendo anche toccato la base del rettangolo di congestione, potrebbe risalire, ritornare su per poi andare a segnare un ulteriore massimo. Valutiamo questo prossimo massimo, se sarà all'interno di 0,6752, quindi al di sotto di questo livello, andrà ancora a valorare la visione ribassista e quindi potremmo implementare delle nuove operazioni a ribasso anche su scala intraday. Mentre in ordine multiday abbiamo spostato lo stop, l'abbiamo spostato a 0,6845, quindi al di sopra di questo livello, da qui infatti per me la visione ribassista sarebbe messa ampiamente in discussione, per cui il cross per me da questo livello potrebbe ritornare appunto a seguire il canale ascendente che avevamo tracciato. Vedremo nella serata se sarà il caso, vediamo anche i movimenti che verranno, saranno strutturati da parte del cross, vediamo sulla base dei futuri movimenti se sarà il caso di avvicinare ulteriormente lo stop, quindi di ridurre ulteriormente il rischio. Bene, abbiamo sforato abbondantemente, credo insomma di aver visto i principali cross, per cui rinnovo l'appuntamento eventualmente per la sessione delle 21 per chi è interessato, per guardare con più calma e con più attenzione tutti gli altri strumenti. Quindi grazie per la vostra partecipazione, per la vostra attenzione, rinnovo quindi l'appuntamento per la sessione delle 21 di Trading Room Roma, oppure per la sessione delle 10 e 30 con Teletrade domani mattina. Grazie e buona giornata di trading a tutti. Grazie a tutti.